Il derby è sempre il derby, è una partita difficile, sentita, poi questo derby è particolare, viene dopo una sosta, le due squadre hanno tanti nazionali, quindi oggi noi saremo tutti al completo, quindi sarà una bella partita, non facile come tutti i derby, però sarà una bella partita. Ma sicuramente è diversa per lui, vivere un derby da allenatore non è sicuramente come da giocatore, è il primo derby che fa sotto la panchia del Milan e spero che gli porti fortuna a questo. Sicuramente quello di Sevecenco al derby di ritorno di Champions League, ha un valore nella mia carriera, nella mia vita veramente importante. Diciamo che è stato l'inizio di quegli anni stupendi con il mister Ancelotti, anni indimenticabili dove penso che una squadra così forte è difficile riaverla, però speriamo nel futuro, dove avevamo vinto tutto, quindi anni dimenticabili, anche se dopo ho giocato poco, ma il mister era bravissimo a coinvolgere tutti e far sentire tutti parte del gruppo. Con il mister c'è un buon rapporto, adesso è difficile avere lo stesso rapporto che avevo con lui quando giocavamo assieme, perché ha una figura diversa nello spogliatoio, quindi io cerco sempre di stare in disparte, non avere quel rapporto che avevamo prima di scherzare più di tanto, adesso ha una figura diversa, quindi io sono un giocatore, un allenatore e io lo chiamo mister adesso, quindi qualcosa è cambiato. Ottimo, perché comunque ho iniziato presto ad andare in nazionale, subito nel 2000 ho fatto la competizione dell'Europeo in Olanda, poi comunque ero coperto da grandissimi portieri, di Toldo, Buffon, Peruzzi, ho sempre fatto il terzo, a un certo punto ho preferito non dire addio, ma pensare più al Milan, a stare qua con la squadra, ad allenarmi, perché comunque il terzo portiere nazionale è importante, penso fino a una certa età, dopodiché è meglio lasciare spazio a gente brava e magari più giovane.